Una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie renali e quanto organizzato dall'assessorato alla sanità del comune di Olevano sul Tusciano e Nefrocare presso il poliambulatorio Monticelli situato in piazza Palatucci ad Olevano sul Tusciano. Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 sarà possibile effettuare gratuitamente ecografie renali e visite nefrologiche.